Bene amici, finito l'embargo, posso finalmente aprirlo, ma soprattutto parlarvene, stiamo parlando del nuovo, ta-daaa, Motorola Razr! E tra l'altro, ma come? C'è l'etichetta che dovrebbe fare aprire la confezione e non funziona! No, forse l'avevo aperta io troppo velocemente, no, in realtà è proprio fatta male. Vabbè, confezione comunque super elegante, oh ma come si apre, attenzione, da una parte, voilà, c'è l'etichetta open, vediamo se questa... Pronto Motorola? No, benissimo le confezioni, ma vabbè. L'ingegnerazione della confezione è importante, cioè se qua ho un'etichetta con scritto open e la tiro e mi si spacca, poi la tiro e mi si spacca tutta la carta. Vabbè, chi se ne frega, guardate, molto sottile, 7,6 mm quando è chiuso, non mi ricordo quando è aperto, o meglio il contrario, ma è l'emozione. In questi momenti 200 grammi di peso e subito una prova, anzi prima lo accendiamo con il tasto che ho posto qua a destra, c'è anche il sensore di impronta digitale proprio sul tasto, poi qua sopra ci sono i tasti volume, la prova qual è? Sì, no, molto bene, apertura e chiusura con una mano, che poi è la cosa che è importante fare su un pieghevole, ci sta... Oh no ragazzi, figata, ci sta la grande, si ferma anche nelle posizioni intermedie, però poi c'è la mollettina che lo chiude nell'ultima porzione di chiusura. Display esterno, 2,7 pollici OLED con le funzionalità del display interno, quindi non c'è bisogno sempre di aprirlo per fare le cose. Type-C, altoparlante, poi quando lo accenderò vi racconterò se è stereo, doppia fotocamera, 50 megapixel con stabilizzatore ottico e 13 megapixel grandangolare, sporge leggermente la scocca anteriore ma veramente pochissimo, batteria 3500 mAh, carica rapida 33 W, purtroppo non c'è la carica wireless. Vediamo cosa c'è invece in confezione, il caricabatterie, poi abbiamo la coverina ovviamente divisa in due parti, perché voilà, una va così sotto, una va così sopra e devo dire che sì, lo imbruttisce, diciamocelo, io le cover le odio abbastanza, però non lo fa diventare esageratamente grande, ma lo facciamo saltare subito. Voi sapete che a me piacciono i telefoni nudi e crudi come i brand li hanno pensati, non vorrei spaccarlo subito. Dai, staccati, ma cos'è l'adesiva? Ma l'imortel della cover? Ok, ce l'ho fatta, oh bello, 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 ci siamo quasi, ci siamo quasi, guardate la piega che non dico che non si veda ma quasi non si vede, è stato modificato il meccanismo di chiusura, fa sempre la goccia, il display, ma quando si apre è decisamente più steso rispetto alla generazione precedente e soprattutto lo schermo, nella generazione precedente, nelle parti qua sotto non era perfettamente liscio, qua invece lo vedo assolutamente perfettamente liscio. Iniziamo la configurazione, et voilà, configurato, non sto a parlarvi della velocità Snapdragon 8 di generazione 1, ovviamente un fulmine a fare tutto, ma del display sì, ve ne parlo, ha una pellicolina pre-applicata che non bisogna togliere, 144 Hz, 6,7 pollici diagonale, bello, è anche abbastanza luminoso, l'audio è stereo, ma vi faccio vedere due cose che mi piacciono tantissimo. La prima è il display esterno, sblocco qua con l'impronta, devo dire bene, si può configurare anche il sblocco col volto, così voi lo accendete, tappettino lo guardate, ma quello che si può fare è praticamente tutto. Qua possiamo decidere quali applicazioni far avviare rapidamente e vedete tutte le applicazioni possono essere avviate dallo schermo esterno, qua possiamo mettere i preferiti con il tastino per fare chiamate, qua la gestione dei pannelli e qua a destra possiamo farci le foto o i video guardandoci dallo schermettino, ovviamente con le cam principali, molto personalizzabile anche per quanto riguarda i toggle, basta tirare giù e senza stare ad aprirlo, se vogliamo mettere in vibrazione, in silenzioso, metterlo in modalità aereo o accedere al ready for, l'ho girato, arriva domani dopo domani lo speciale sull'interfaccia desktop di Motorola che è la migliore, sinceramente la migliore, e poi swipe dal basso verso l'alto per le notifiche, vi sto già facendo una specie di recensione, ma ci teniamo a far vedere l'utilizzo proprio del pannellino esterno perché mi è piaciuto particolarmente, se vado qua a schermo quick view è possibile, vedete, personalizzarlo, ma non solo personalizzare i pannelli, ma la dimensione della visualizzazione, se magari ci vedete un po' poco, un po' male, siete un po' come me, 50 anni, quindi dovete allontanare, quasi 49, ma si può differenziare il carattere, la dimensione tra pannello interno e pannello esterno, insomma mi sembra ben ingegnerizzato, solite motorolate, ma per quello arriverà la recensione, ma già che ci sono qua, sì devo sistemare la cantinetta raga, esce la cantinetta perché vi avevo detto, la prossima cantinetta sarà uno studio nuovo, nulla fo, questo è il Flip 4, voi sapete, è un telefono che mi è piaciuto tantissimo perché rispetto al 3 è lo stesso telefono, ma tutto un altro telefono, però devo dire che nell'utilizzo di questi primi minuti, sarà un paio d'ore ora che lo configuro, no, in realtà sono una mezz'oretta tra configurazione e prime impostazioni, l'apertura con una mano, ma soprattutto la chiusura, la trovo leggermente meglio, oltre al fatto che qua il display è praticamente inutilizzabile, qua invece il display ha un grande senso, è vero che qua la batteria è un pochino più grande alla ricarica wireless, ma la ricarica cablata è un pochino più lentuccia, qua abbiamo due cam da 12, qua abbiamo delle cam in teoria un pochino più performanti, il prezzo al lancio è sostanzialmente lo stesso, le dimensioni, il Flip 4 un filino più piccolino, però il touch and feel dei pieghevoli a me piace un sacco perché guardate, ve li mettete tranquillamente in tasca, non rompono le scatole, sono abbastanza piccolini, diciamo abbastanza, non sono proprio microscopici, ma anche lo spessore ci sta e l'apertura così mi piace un sacco, vabbè vedremo, faremo un testa a testa, arriverà la recensione, prezzo di lancio attorno ai 1100 euro, quindi non popolare, lui ha il vantaggio di essere uscito qualche mese fa, quindi Treat Price sono usciti allo stesso prezzo di listino, ma lui è già sceso di un pochino, ovviamente scenderà anche il Razor, ma scusate, unboxing che sta diventando una recensione, quindi la chiudo qua, che bello buttareci le vecchie amate così come i vecchi tempi, ciao! Grazie a tutti!